Andrea con il cuore fino all'ultimo respiro, così come tante volte l'Entella quest'anno ha recuperato le partite all'ultimo respiro, questa sera si è lottato fino all'ultimo pallone per raggiungere questo obiettivo. Sì, abbiamo fatto una prestazione sotto il punto di vista del sacrificio importante. Penso che questa squadra merita l'oggi perché dal primo giorno abbiamo fatto un sacco di sacrifici. Oggi l'abbiamo messo in campo, non era facile qui contro una squadra importante, un derby sentita. Io volevo fare innanzitutto i complimenti alla squadra che ha fatto un grande anno, allo staff e alla società. Quindi è una vittoria di tutti, anche ai tifosi che purtroppo non sono potuti stare con noi in questo periodo, però questa vittoria è anche per loro. Quando sei stato munito dopo pochi minuti l'opinione generale in tribuna era speriamo di chiuderla questa sera perché altrimenti Paolo ci salta la cittadella. Sì, ho preso la munizione subito, diciamo che ho giocato col peso della munizione tutta la partita, però era una partita importante, ho cercato di gestire sia le entrate che durante la partita. Quindi è andata bene, c'era da sudare, da fare sacrifici e l'abbiamo fatto. Tu hai visto nascere questa squadra, sei stato il regista di questo gruppo, praticamente sempre titolare. Qual è stato il momento più bello di questa stagione? Sicuramente abbiamo toccato il picco nel giro di andata quando eravamo quarti in classifica, poi nel giro di ritorno abbiamo fatto, diciamo che non abbiamo avuto il ritmo del giro di andata, però il giro di ritorno in serie B è sempre un giro di ritorno difficile per tutti, basta guardare le squadre che sono ancora lì a lottare, non è nulla scontato, dietro questo risultato c'è il lavoro di tanta gente per bene e quindi ci prendiamo questa salvezza che per noi era fondamentale.